Come annunciato è stato depositato il ricorso al TAR da parte della funzione pubblica della UIL tramite il segretario regionale Alfiero Antonio Di Gianmartino, contro la location di Piano Daccio per il nuovo ospedale di Teramo. La questione oramai nota, ci sono 81 milioni di euro di fondi destinati alla struttura dal governo, ma le associazioni chiedono che si valuti un'area adiacente il Mazzini, piuttosto di optare per la realizzazione di un nuovo nosocomio con fondi totali ancora da individuare per l'area di Piano Daccio. Innanzitutto non ci sono le ragioni tecniche per poter determinare la realizzazione in questo sito, perché è una zona vicina al flume, nei soliti discorsi, non è attrezzata, quindi è inopportuno sotto l'aspetto anche della localizzazione perché desistificherebbe la città. Ci sono tantissimi motivi, oltre al costo che sarebbe di 350 milioni, disponibili sono circa 120 milioni, noi ci chiediamo com'è possibile trovare 230-200 milioni mancanti, visto che il progetto financing sicuramente sarà oggetto di contestazione, come è successo per Chieti, e l'eventuale finanziamento diretto dovrebbe essere autorizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, di cosa difficile in relazione al disavanzo delle ASL che a tuttora è abbastanza importante. Ma la questione del nuovo ospedale non è stato l'unico argomento trattato in conferenza. Il consigliere comunale Franco Fracassa ha riacceso la questione dell'annunciato, ma mai realizzato, completamento del parcheggio dell'ospedale Mazzini. Questa incompiuta davanti al nostro ospedale, ad oggi, già da alcuni anni, dove esserci un parcheggio con mille posti auto. Ne abbiamo il 50% realizzato, ma soprattutto, oltre a quest'opera, vi era all'interno, già predisposto nella progettazione, anche altre strutture che necessitava per la cittadinanza e soprattutto per il mondo ospedaliero. Ho depositato al Comune di Teramo anche una diffida nei confronti del dirigente dell'urbanistica. Sono intenzionato a far sì che quell'opera venga portata a termine.